e e siamo alla presentazione la prima serie cento rana ragazzi in uno Tobia Odorici alla due Giacomo Alessandri in tre Alberto Menin in quarta corsia il campione giovanile in questa gara e bronzo nei due cento rana Davide Costantin amatori nuoto al suo fianco la quinta corsia per il team Veneto bronzo a Riccione nei cento rana Marco Menta corsia numero sei più giovane classe zero tre per lo stile libero l'argento in questa prova agli italiani giovanili sempre a Riccione Francesco Vicentini alla sette Filippo De Meneghi alla otto Andrea Cescutti questi ad un i protagonisti che a breve andranno in vasca per la serie uno trenta tre zero quattro intanto Filippo Conforto il passaggio per quanto riguarda la serie numero due siamo già all'uscita dell'ultima subacquea e nella vasca che porta alla testata principale per andare a completare questa serie due sempre Conforto cuffia arancione per lui uno nove e trentaquattro sale in prima posizione nella classifica